Ciao a tutti, bentornati su Maker of Fortune con una nuova puntata di una chiacchiera bisettimanale. Non so ancora come chiamarlo questo spazio, non ho mai avuto una rubrica all'interno del canale, quindi se volete suggerirmi qualcosa scrivetemelo qui sotto. Manca ancora così tanto per completare questo canale e farlo decentemente, nonostante sia in piedi da qualche anno. Beh, scrivetemi cosa ne pensate. Beh, oggi si parla di un altro luogo comune, ovvero che la luna influenza più o meno la crescita dei capelli, la crescita dei raccolti in base a se è piena, se è nuova, se è a metà, se è a tre quarti, se è a sette dodicesimi. Insomma, è una diceria abbastanza datata. Ma quanto è vera? Per niente. In effetti la luna di per sé, sia che tu la veda perché è piena, sia che tu non la veda per niente perché è nuova, o che tu la veda uno spicchio, in realtà la luna sta sempre là. Il suo giro intorno alla Terra è sempre quello, anche se è completamente in ombra, perché le fasi lunari sono dovute alla luce che colpisce il nostro satellite da una direzione, da un'altra, da un'altra ancora. Ma in realtà la sua influenza è sempre quella, è sempre lì presente. E sulle persone, come per esempio sulla crescita dei loro capelli, è ininfluente. Quindi da dove deriva questa cosa che il raccolto viene meglio se lo pianti con la luna nuova piuttosto che con la luna piena? In realtà nasce in un momento storico nel quale non avevamo un così grande controllo del tempo, di conseguenza per decidere quando seminare e per tenere una scansione corretta dei tempi, avevamo bisogno di un qualcosa di relativamente regolare, come possono essere le fasi lunari. Quindi io sapevo che se pianto il mio grano turco con la luna piena, e questo ci impiega 4 settimane per crescere, sto sparando assolutamente a caso, ho un amico agronomo che potrebbe sputarmi in faccia in questo momento. Poniamo il caso che ho bisogno di 4, 8, 12 settimane per la crescita del mio raccolto, prima di tirarlo su, io so che ci vorranno 3 lune piene, e se semino con la luna piena so esattamente che alla terza volta che mi si ripropone la luna piena, io avrò atteso il tempo corretto prima di tirarlo su, senza dover andare a verificare togliendo le pannocchie per vedere se effettivamente queste sono cresciute correttamente. E quindi la luna quanto influenza sulla nostra vita? Niente, cioè a meno che non portate la vostra bella o il vostro bello sulla collina con un picnic sotto la luna piena, quello potrebbe influenzare effettivamente la sua decisione di darvi un due di picche oppure di baciarvi. Boh, quella è l'unica cosa che mi viene in mente. Ah, c'è chi potrebbe effettivamente dire qualcosa relativo alle maree, che con la forza gravitazionale della luna salgono o scendono le maree. Sì, ma ne parliamo in un altro episodio. Ragazzi, grazie mille, come al solito. Se il video vi è piaciuto lasciatemi il like, se vi va iscrivetevi, che così seguite anche il resto, cioè è brutto partire con una serie, cioè come ti guardi una serie su Netflix e poi ad un certo punto te la tolgono oppure smetti di guardarla, cioè non sai come va a finire, possiamo spararne di grosse. Lasciatemi nei commenti cosa ne pensate, se avete un argomento da trattare scrivetemelo qui sotto. E con questo è tutto. Ciao ragazzi. Ciao.